Ho pensato a quello che è stato proprio questo incontro di cui lui ha parlato, dell'incontro di tutte queste individualità, di diverso storie, ruolo, perché tante persone che mai più avremmo pensato di incontrare, e che hanno collaborato a questo bellissimo progetto accompagnando gli artisti. Lui dice che come tutto si intesse in un intero, ogni cosa opera e vive nell'altra. Questa frase è proprio l'indicatore di quello che è accaduto, quello che è accaduto nella scoperta del lavoro fine, profondo, del tema portato avanti, e di quello che è stata proprio la crescita individuale di ogni ragazzo, di ogni artista partecipante. E questo io non vorrei dire altro, perché il progetto è stato bellissimo, intitolato agli elementi, i ragazzi hanno imparato ad osservare nei minimi particolari qualsiasi cosa e ad aprire nuovi occhi che di solito tutti noi teniamo nascosti, perché non abbiamo mai tempo di osservare le cose del mondo che ci circonda. Quindi è un progetto che ci ha dato tanto. Però la ricchezza che ha dato, umana, quella non è descrivibile in nessun modo. Quindi grazie a tutti. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.